Ivan Maraia non si sbilancia ma studia con attenzione le mosse giuste di una sfida tanto infinita quanto complicata e con l'incognita maltempo. Lucchese Rimini è questo ed altro per il tecnico di Santa Maria Monte e per la squadra rossonera, chiamata a riscattare la bruciante sconfitta di Fiorenzuola. Il campionato non aspetta, siamo già alla quinta e il tempo delle prove sta per scadere. Maraia, ospite giovedì sera a Curva Ovest, deve cominciare a tirare le somme di un lavoro di due mesi abbondanti, che sul piano tattico poi paiono orientate al 4-4-2, anche se il tanto amato 3-5-2 rimane nel cassetto pronto ad essere rispolverato. Positivo e pratico che una squadra sia camaleontica sul piano tattico e nel corso della stessa partita arriva il rimini dell'ex Santini che Maraia ebbe ai tempi di Pontedera, interlocutore scomodo che però la Lucchese di fronte al suo pubblico vorrebbe domare. Detto che Coletta, Pirola e Franco sono out, proviamo ad ipotizzare lo schieramento iniziale 4-4-2 del match di sabato ore 17.30. Cucchietti in porta, Quirini, Bacchini, Tiritiello e Alagna in difesa, Visconti, Tumbarello, Mastagli e Di Quinzio, Cerniera, Mediana, Bianchimano e Ravasio in attacco, in caso di 3-5-2 dentro un altro difensore, Merletti, Maddaloni o Benassai, al posto di un esterno. In merito a Lucchese Rimini il pallone ne avrebbe tante di cose da raccontare, da quel lontano 24 settembre 1972, curiosamente proprio 50 anni fa, quando la squadra di Janic, Martelli, Moro e Mancini, li rivediamo in queste foto sgualcite dal tempo, batte 1-0 il Rimini con rete di Stevan su rigore. Tradizione favorevole alla Pantera nelle otto partite finora giocate al Porta Elisa, in prevalenza concentrate negli anni Ottanta. L'ultima della serie risale a sei anni e mezzo fa e finì ancora con un successo della Lucchese, era il 12 marzo 2016, guidata da Nanu Galderisi. A decidere quel match nel finale, prima la zampata del Lucchese d'occhi Jacopo Fanucchi e a ridosso del novantesimo il sigillo di Demiro Pozzebon. Sabato la nona, per chi suonerà?